Buonasera, buonasera e bentornati alle Serie A Team FIFA 22, il campionato ufficiale e-sport della Lega Serie A. Io sono Ludovica Vagani e finalmente ci siamo. Iniziano le Final 8, queste due giornate di sfida tra i migliori professionisti nazionali di FIFA. Da qui decreteremo il vincitore. Siamo carichissimi Ludovica, è tutto pronto qui sul palco per le sfide dei quarti di finale che poi giungeranno nella giornata di domani a decretare la vincitrice di questa Serie A Team 2022, Marco. It's time to Serie A Team. Quante emozioni che abbiamo vissuto finora, sono partite in 15 squadre, ne sono rimaste 8 per il programma di giornata che prevede oggi queste sfide. Possiamo andare a vederle. Si parte con Sampdoria contro Venezia FC Gaming, partite di andata e ritorno. Chiaramente per poi il secondo quarto di finale con Salernitana 1919 e-sport contro Fiorentina e-sports. L'altro lato del tabellone che vede invece Torino FC e-sports team contro Empoli e-sports FC e a chiudere la giornata di oggi AC Milan Clash contro Sassuolo e-sport. Le magnifiche 8, ricordiamo che oltre alla gloria personale ci si gioca tanto, vero Flavio? Grazie per l'assist doc, ci si gioca tanto perché oltre appunto alla gloria personale e a tre slot per i playoff c'è anche un sostanziale monte premi che andiamo adesso a vedere appunto in grafica perché il vincitore si porta a casa una bellissima cifra che è di 15.000 euro, il secondo invece 9.000 euro, terzo e quarto posto oltre a giocarsi appunto l'ultimo slot per i playoff si giudicano 6.000 euro entrambi, mentre dal quarto all'ottavo posto 3.500 euro. E allora siamo prontissimi per partire con la prima sfida che vede contrapposte Sampdoria e Venezia FC Gaming. Quindi vediamo subito chi difende i colori per la Sampdoria, Nest Giovi! I blu cerchiati d'Italia in questa Final 8 con chi questa Final 8? Già la conosce Giovanni Salvaggio che con il suo compagno di squadra di Nutto ci ha regalato tante emozioni durante questa E-seria team e adesso il momento più importante, la Final 8, il quarto di finale dove vi è stato sbagliare. Allora vediamo subito l'avversario per il Venezia FC Gaming, Karim is back! E come un leone alato spicca il volo verso il palco Karim, Karim is back Ermaiti, è lui il pro player del Venezia FC Gaming. 19 anni e nessuna pressione sulle spalle alla prima apparizione della E-seria team dall'user bracket contro Lella Sverona al palco della Final 8. Di Lorenzo poi dentro per Tonnali. Servire Ronaldinho per Gullit, si gira, si rigira, Gullit col sinistro! E arriva il gol dell'1-0 al sesto minuto della ripresa e avanti il Venezia che quando arriva dentro l'aria è devastante. Di Lorenzo, vicino di Bala, visto e servito, sempre di Bala dentro per Raim Diaz, gioco di gambe rapido veloce, poi Ronaldo extra, basso per Gullit! E questo è il Karim is back che conosciamo, queste sono le sue giocate e questo è 2-0! Una partita tiratissima, nel primo tempo soprattutto, però nel secondo si sono un po' aperti gli spazi. Il Karim è stato bravo comunque a sfruttare le poche occasioni che ha avuto, a difendere quell'occasione nel primo tempo dove Giovi forse poteva fare un passaggio dentro, un extra passo invece che provare il tiro sul primo palo. Però comunque 2-0, ancora tutto aperto e forse sì, abbiamo visto un po' più il Giovi dei playoff rispetto al Giovi dei Gironi, appunto il Giovi che era andato tanto in difficoltà contro Neto. Siamo nel ritorno tra Venezia e Sampdoria. Ibraimovic dentro, si passa da Ronaldo, adesso l'alza per Ibraimovic, se ne va Ibraimovic, quella palla rimane lì con Ronaldinho che calcia, il portiere a terra arriva il gol, che riapre la sfida, quello che serviva alla Sampdoria. Benchiazza, il campo lo prende, adesso allarga sulla destra per Ibala, che converte, prova a piazzarlo di bole, Mike Mignan con la mano di richiamo. Sempre Digno, l'Atena tende in forti, è un quadrato che salta secco l'avversario, allarga per Ronaldinho, teniamo seduta l'uomo, Ronaldinho il pallone dentro, per Ibraimovic! E poi arriva Ronaldo, tutto solo per il gol del pareggio. Finisce qua, tempi supplementari. Ronaldo al limite, tonali, poi goletto dentro per Guita, che calcia! E arriva la rete dal vantaggio, a otto dalla fine. Fallone dentro, il rifallo lo favorisce, adesso Ronaldinho, allarga per Ronaldo, ci fa vedere di Lorenzo lo scambio, poi di bolla con il destro! Ma che partita è? E tre a tre, la ripresa, ancora una volta Giovi! Gullit al limite, prova a salire, a servire ancora Sandro Tonali lo scambio con Gullit, dentro poi per Ronaldo! E la vince così, la vince all'ultimo minuto, all'ultimo respiro! Ma che partite sono? L'ultima occasione con il tiro che vale la semifinale per il Venezia! Allora, innanzitutto complimenti, partita sofferta fino alla fine, ma ce l'hai fatta! Mamma mia, è stata una partita sofferta, quando mi ha fatto gol del pareggio alla fine, ho detto poi è finita, che lui ha i rigori e è troppo forte! Quindi è stato quello il momento dove hai avuto un po' più di paura, insomma! Sì, lì lì hanno fatto il pareggio e ho detto poi è finita, è finito tutto! E invece ce l'hai fatta all'ultimo, ma ce l'hai fatta! E' stato il gol più bello che ho fatto, secondo me, all'ultimo secondo e si porta a casa la vittoria! Sono contento! Keita Balde! Mamma mia! Come mai questo giocatore non aveva... era chiaramente una carta nuova, non era disponibile nelle fasi precedenti! Ma ti è colpito di questa carta? Per metterlo in campo nel momento più difficile! Allora, se devo essere sincero, Keita Balde l'ho provato veramente pochissimo! Me l'ha messo il coach in Icalda, un saluto, so che si sarà già arrabbiato sicuro per il gol che ho subito! Ma vabbè, comunque me l'ha messo lui, mi ha detto fidati che ho la sua velocità, non si sa mai! Infatti a un punto ai supplementari ho detto, i suoi difensori saranno stanchi, i miei attaccanti sono stanchi! Proviamo a mettere questo a 98 velocità! Quando l'ho visto sottoporto ho detto, secondo me questo l'ha sbagli, invece l'ha buttata dentro, sono veramente contentissimo! E ragazzi, noi esatto siamo prontissimi, stiamo per consegnare il Rookie of the Year che è un premio super importante, infatti adesso Venom ci spiegherà perché! Super bello anche Ludovica, devo dire, veramente fantastico! Esatto, molto molto! Rookie of the Year che è il premio che viene dato a uno dei 15 ragazzi che è uscito dal draft e che è stato selezionato da una delle 15 squadre di questa serie A team, e a votarlo siete stati proprio voi sulle pagine Instagram di Sony PlayStation Italia! E chi l'ha vinto Ludovica? Allora siamo pronti, il Rookie of the Year va a carburatore 76, prego, raggiungeci pure! Complimenti! Allora, innanzitutto complimenti! Grazie! Io volevo chiederti, tu hai un pro player che ha un po' il tuo modello? Sì, sì, come hai già detto al draft, il mio pro player modello è Obrun, che poi ho avuto anche la fortuna di incontrare proprio come match d'esordio ed è stato molto emozionante! Appunto, che emozioni hai provato nel calcare un palco importante come quello della serie A team e riuscire anche a vincere una partita contro quello che hai detto che è un po' la persona da cui ti ispiri, da cui hai magari imparato qualche segreto come appunto Obrun? Che emozioni hai provato in questa sfida? Diciamo che ero molto emozionato perché fino a poco tempo fa lo guardavo da dietro al MyPad, dalla cameretta e cercavo di imparare il più possibile da lui e proprio giocare contro di lui nel match d'esordio, in una situazione di classifica difficile, è stato molto emozionante e poi vincere ha reso il tutto più bello. Siamo pronti per la seconda sfida di queste Final Eight che vede contrapposte Salernità nel 1919 e Sport e Fiorentina e Sport. Si sfiderà in una partita veramente importante perché una passerà e l'altra no. Allora, vediamo subito chi difende i colori della Salernitana. Facciamo entrare Montaxer! Il calore dell'arecchie di tutto il popolo Granata sulle spalle di Montaxer che verrà guidato nell'anima, nel cuore e nel pad dal popolo di Salerno. Eccolo che sale sul palco di questa Final Eight nel secondo quarto di finale, gli occhi della tigre di Andrea Montanini. E vediamo allora l'avversario per la Fiorentina, Hexon Virgil. Si accendono le luci per il più giovane di questa Final Eight, capace di emozionare il pubblico con le sue ducate. Ecco a voi Hexon Virgil, il pro player della Fiorentina eSports. Colui che è riuscito a triunfare contro il vice campione in carica della scorsa stagione, Gabri. Incredibile, già il quattordicesimo giocherà in dieci uomini. Hexon Virgil che subisce l'attacco di Montaxer con l'extrapassa! Subito colpito nel cuore della partita. Primo quarto d'ora, Salernitana a 1, Fiorentina a 0. Viva là dentro, illuminante per Gulli, stop e tiro al volo! Mamma mia, il cavalluccio marino! Digno, sull'uscita del portiere! Eccolo il marchio di fabbrica, l'arcobaleno sopra, Meg Megnani in uscita. Vede la porta da lì, vada di Balas, è dentro l'area di Balas, la sposa sul mancino di Balas. Digno, Digno con l'elastico, non riesce a calciare. Ibrahimovi si ritrova ancora, il pallone è lì! È come un rapace! Maldini in una posizione, non proprio delle sue, ovvero laterale e destro, ma comunque il pallone arriva a Ibrah. Poi Tibala sul sinistro, Ronaldinho, Tibala! Quinto minuto e la partita subito si riapre. Teo Hernandez, Ronaldinho, vediamo se converge, va subito dentro, Gullit! La stop è Gullit! Sul primo palo! Quadrado, avanza la Salernitana proprio con il colombiano tra le linee CR9 che si va dal fenomeno. Poi Gullit all'incrocio dei pali! Un gol che regala la semipinale ai Granata. Ed eccolo qui il vincitore, allora, come ti senti? Ciao Ludovica. Ciao. Sento bene, partita molto stressante sta qua perché stavo 2-0, con due gol di vantaggio, poi farsi recuperare è sempre brutto, per fortuna. ma nei supplementari ho trovato il gol del 4-3, mi pare, 4-3 dovrebbe essere, sì, è nata bene per fortuna. Quale è stata secondo te l'attuazione più bella? Penso quella sull'ultimo gol di Gullit ai supplementari, sicuramente quella, sì. Allora io ti faccio tanti complimenti e ti invito a raggiungere gli analyst che sicuramente avranno altre domande per te. Prego, ragazzi, è tutto vostro. Cosa ti aspetti invece dall'altra parte del tabellone? Abbiamo due partite che dobbiamo andare a vedere, abbiamo Torino-Empoli, abbiamo Milan-Ciassuolo. Chi ti aspetti che possa prevalere e chi potrà arrivare con te alla semifinale? Sono partite molto difficili, certamente dare il mio pronostico su Oberon alla prima partita e la seconda invece secondo me è proprio 50-50 spaccato, quindi fare un nome è difficile proprio. Bicam Fair Play Award che ricordiamo è votato dai giocatori, quindi il premio al fair play, il premio alla sportività, che ricordiamo è un valore da sottolineare sia nell'e-sports che nello sport in generale, quindi vediamo un po' chi si aggiudicherà questo premio votato dai partecipanti alla E-Serie Attiva. Il premio va a Dani Pitbull, prego! Bravo! Buonasera! Complimenti per il premio, come ti senti un po' a avere comunque la stima e il rispetto dagli altri, da tuoi colleghi, amici, comunque gli altri giocatori? Assolutamente, è un premio che mi rende orgoglioso, ringrazio veramente tutti coloro che mi hanno votato, penso che oggi sono veramente orgoglioso di me stesso per come mi approccio alla gente, veramente devo ringraziare assolutamente i miei genitori che mi hanno insegnato tutto ciò. Ti faccio tanti complimenti anch'io perché veramente sicuramente questo è un premio molto importante che dà anche un messaggio molto importante, il fatto che l'abbia vinto tu ti fa tanto onore, quindi complimenti. Grazie mille, grazie mille. La terza sfida che vede scontrarsi il Torino FC eSport Team contro Empoli eSport FC. Allora, vediamo subito per il Torino FC eSport Team c'è Obrun 2002. Francesco Pio Tagliapierro è il pro player del Torino FC eSport Team e della E-Nazionale. Nella scorsa edizione ha chiuso in top 3, ha concluso al secondo posto nel girone P e poi è playoff. Ha battuto il Venezia di Karim Isbek. E allora vediamo l'avversario a indossare la maglia dell'Empoli, c'è Artixel. Classe 2003, Francesco Ricci dopo un girone non ottimale adesso è qua per queste Final 8 a giocarsi un posto per le semi-finali. Tutto in 180 minuti, un passo importante per la sua carriera, un passo per la storia. Attenzione a Ronaldinho che calcia! Ed ecco il lampo che serviva a questo match perché arriva il gol del vantaggio. Hernández verticale dentro per Gullit. Gullit cerca lo spazio per Ronaldo, arriva il cross dentro e arriva il gol del 2-0. Attenzione perché c'è l'extrapass dentro per Ronaldo! Hernández, servire Gullit dentro Ibrahimovic. Si è inserito Gullit, vinto e servito. Gullit ci prova ed ecco il gol del 2-2! Gullit c'è lì, che sì! Di vicino Di Bala, l'Asa splendidamente! Dentro per Ronaldo! Vince questa parità combattutissima grazie a un ribaltone da parte di Obrun nel secondo match. I complimenti, ovviamente la sportività che non deve mai mancare. Complimenti Obrun! Grazie mille. Allora, come ti senti? Com'è stata questa... Eh, un po' eccitato di golerità, però meno male è finita bene. Ho dovuto fare il miracolo nella seconda partita ArtXL, veramente complimenti perché ha fatto l'andata veramente assurda. Mi feso benissimo. Qual è stata la migliorazione del tuo avversario? Al novantesimo dell'andata mi stava per fare un gol assurdo, dovevo soltanto posare il pad, meno male che non è andata così e quindi poi il ritorno ho giocato finalmente e sono entrato in campo. Io ti faccio tanti complimenti, un in bocca al lupo e ti invito a raggiungere gli analyst che sicuramente avranno... sì, domande per te. Due partite davvero al cardiopalma. Sotto 2 a 0 l'andata, quasi tre come hai raccontato prima, nel finale sei riuscito a salvarti l'altra 0. Poi cos'è successo nel ritorno? Il cambio modulo, una mentalità diversa? Sì, diciamo che io nell'allenamento avevo provato soltanto il 3-5-2, avevo visto nella prima partita con Giovanni che non era andato troppo bene il 3-5-2, quindi ho detto magari il gameplay è lento, sui esterni ho difficoltà. E dato che comunque io sapevo che ArtXL era un giocatore che giocava molto sulle fasce, volevo aggredirlo con gli esterni. Invece nel 3-5-2, avendo soltanto Ada e Asa, ovviamente avevo un po' più di difficoltà. Invece andata non ho giocato, quindi non avevo niente da perdere il ritorno. All'andata forse non ho fatto nemmeno un tiro in porta, quindi il ritorno mi sono messo con il mio 3-5-2, lo aggredito un po' di più, ho difeso sulle fasce bene e era andata bene. È stato il modulo solo all'andata o anche qualcos'altro se non sa che ti è mancato? Ma all'andata non lo so, in realtà soprattutto ho sbagliato nella manovra offensiva. E quindi in difesa ovviamente comunque quando giochi con un player come ArtXL, prima o poi il gol te lo fa, ha giocato praticamente solo lui, quindi l'andata era meritata assolutamente. Poi il ritorno appunto magari con il 3-5-2 sono riuscito a farlo abbassare e ce l'ho fatta. Con l'88% dei voti vince il vivo best goal Fabio Denuzzo. Complimenti per la vittoria, un commento sul gol, in quel momento era volontario come diceva Flavio oppure qua è uscito? Ma in realtà perché secondo me è molto bravo a difendere, Oberun doveva inventarmi qualcosa, cioè quando magari hai difficoltà a fare gol ti devi inventare la giocata. Poi ho visto pure il minuto, ho detto mo la provo e mi è andata bene. Però era ricercato, cioè non era ricercato. Precipichiamolo, ok. Ma hai guardato un po' male prima quando l'ho detto che... No, ma infatti. No, ha guardato male me. Sì, senti. Comunque, un ottimo premio devo dire. No, vabbè, sono contento, ci mancherebbe. Sono un po' dispiaciuto per il mio compagno Giovi che ha perso il 120esimo, però fa parte del gioco. Riuscite comunque a portare un premio in casa Sampdoria. Sì, sono contento di averlo vinto. Va bene, grazie mille Fabio Denuzzo. Complimenti. Grazie. Per l'ultima sfida di questi quarti di finale si scontrano la C-Milan Clash e Sassuolo eSport. Quindi vediamo subito per Milan Clash. Facciamo entrare Crazy. La nobiltà del calcio nostrano a tinte rosso-nere si affida nuovamente al suo alfiere per hissare la bandiera della C-Milan Clash alle Final 8 e conquistare un posto in semifinale. Secondo anno consecutivo. La casacca è la stessa. La voglia di stupire è quella di Clash Crazy. E vediamo invece. I colori del Sassuolo sono difesi da Figurigno. 28 anni sulle spalle per Simone Figura che arriva in questa Final 8 dopo il quinto posto nella regular season e poi il ribaltone. è il pianto liberatorio dei play-off. Adesso c'è di fronte il Milan Clash con un Figurigno che non vuole lasciarsi scappare questa grossa possibilità. di bala a scambiare con che si verticale dentro per Ronaldo. a servire Gullit! respiro perché siamo ancora una volta nell'altra porzione di campo. Ibrahimovic di bala. Gullit dentro a cercare. Ronadino, l'extra pass dentro e arriva il gol. finisce qua. Il Sassuolo elimina il Milan dopo un'esperienza non ottimale della regular season. Adesso sarà top 4 assicurata per Figurigno. Allora io voglio chiederti quale sono state le tue due azioni migliori secondo te? No vabbè ma diciamo che sono sempre le stesse, le solite quelle mie che mi hanno contraddistinto in questo torneo. o quella magari del doppio tap in aria, dell'extra pass o della Veronica, dell'elastico. Diciamo che sono sempre le solite. E come festeggerai questa vittoria? No intanto sono contentissimo perché innanzitutto tutti gli sforzi che si fanno per essere ogni anno al top. È veramente difficile stare sempre al passo quindi per me è una gioia immensa avere la possibilità domani di giocarmi una fetta importante della mia stagione perché si giocano i play-off e poi ovviamente se si vince le Serie A team la soddisfazione è incredibile. Diego è sempre un avversario ostico, è molto difficile da affrontare perché tiene molto palla, ha una completa gestione delle partite veramente ottima quindi è difficile riuscire a battere. La prima semifinale che vede contrapposto Venezia FC Gaming e la West Salernitana 1919 eSport. Quindi vediamo subito i player. Per il Venezia Karim is back! È una questione di chimica tra lui e il pad in questo 2022 top 4 conquistato all'ultimo respiro a quell'ultimo minuto. Ora è tempo di pensare solo al trofeo per il Venezia. C'è Karim is back! E allora adesso vediamo subito l'avversario per la Salernitana Montaxer. L'uomo dallo sguardo di ghiaccio alla prova del fuoco. Andrea Montanini ha sorpassato Virgil all'ultima curva ed è pronto a gasare il pubblico di Salerno con un'altra prestazione da incorniciare. Obiettivo numero uno! La finalissima! Mettetevi comodi e allacciate le cinture! Seguiamo subito il calcio d'angolo. Batte rapido Karim is back! Il cross è sul secondo per Coulibaly! E arriva subito il gol del vantaggio! Tonali gira per Brain Biazza dentro per Di Balla a cercare Ronaldo! Tutta palla persa in uscita di Venezia deve profondare. Dentro per Ronaldinho che butta in fondo. Ronaldinho calcia! È 3-0! Deve segnare la rete del 3-1 se vuole avere speranze di recupero nella gara di ritorno. E ci prova con Di Balla dentro l'area. Prova a calciare! Ronaldinho a scambiare con Chessé. Pallone dentro meraviglioso per Gullit. La squadra cercò di Ibrahimovic! Inizio perfetto! Ora Di Balla poi dentro per Gullit. A cercare l'ottaggio per Ronaldinho. Extra passo per Ronaldo! 1-1 rimette ancora il più 2 il Venezia. Ronaldinho la gira verso Paolo Di Balla. Prova a girarsi, il pallo favorisce. Poi per Ronaldo! Il Venezia limite dell'area con Ronaldo. La gira per Di Balla! Praterie là davanti per Ibrahimovic. A tu per tu. Ibrahimovic megnano. Tocca e poi arriva il tiro. A porta sguarnita. Vince il Venezia. Karim Ispek è il primo finalista della Isseria Team. Ed eccolo qui Karim. Allora complimenti innanzitutto. Grazie, grazie. Io voglio chiederti, secondo te, dove è stato il tuo punto di forza per arrivare a questa finale? E dove è stato bravo il tuo avversario? Allora, Monta è un avversario veramente fortissimo, veramente troppo troppo forte, però posso dire che ho giocato meglio di lui. Magari lui ho visto un po' quella paura, non so come spiegarlo, non in modo negativo, ma insomma non ha giocato al massimo delle sue potenzialità perché lo conosco e so che è molto più forte di quello che ha dimostrato in questa partita. Però sono molto contento di essere in finale, speriamo di alzare in alto questa coppa. Qual è stato il tuo punto di forza secondo te? Il mio punto di forza è stato mantenere la calma dopo, nella seconda partita, quando mi ha fatto godere il 2-1 in pratica, che lì si sa che la partita si mette in modo sbagliato, lui ha quella voglia di vincere, invece hai quella paura. E lì insomma è stato bravo. Sì, sì, è stato riuscito a stare calmo. Allora, complimenti. Grazie mille. In bocca al lupo e ti mando dagli analyst che avranno sicuramente delle domande. Grazie mille. Grazie mille al microfono, prego. Arrivo. Monta veramente fortissimo. Me l'ha fatta sudare fino alla fine. Guarda, io ho una domanda, dalla mia scherzezza ti chiedo, quel 3-0 così veloce può essere in alcune occasioni più una cosa negativa che positiva, che magari anche inconsciamente ti adagi un po' e c'è un calo di concentrazione? Assolutamente sì, dipende subito dopo cosa succede perché se succede come è successo, cioè che, scusate il gioco di parole, che lui ha fatto il gol del 3-1, tu magari cominci a pensare, a metterti l'ansia da solo, oddio, sono sopra di 3 se mi faccio recuperare, cioè, sono proprio stupido in poche parole. Però quando ha fatto il 3-1 al ritorno, quel gol è stato molto pesante, il primo gol che ha fatto lui, diciamo che l'ho proprio sentito, ma con il kick-off sono riuscito a fare veramente un bel gol e niente, siamo qua. Si scontrano Torino FC Sport Team e Sassuolo E-Sport, vediamo subito i player per il Torino Obron 2002. Fate spazio al Toro che scende nell'arena, Francesco Pio Tagliaferro, noto come Franco, classe 2002, si va a giocare questa semifinale, una semifinale che per lui ha un sapore meraviglioso. Vediamo invece chi difende i colori del Sassuolo E-Sport, Figurigno. Il suo nome ricorda le spiagge di Copacabana e infatti ha fatto ballare la Samba al Milan ai quarti di finale. L'età è solo un numero per Simone Figura che è arrivato in semifinale, non ha più voglia di voltarsi indietro. Nero Verdi, avete il vostro capitano. Verticalizza per Ronaldo a cercare lo scambio con Di Balla, l'alza dentro per Ibrahimović! Si gira, si reggira e si ripassa sempre dal quadrato. Dentro per Ibrahimović! Dentro per Ronaldo, che prova a girarsi se ne va, Ronaldo magia dentro per Ibrahimović! Va Ronaldo da solo dentro per Ibrahimović, l'extraposso per Ronaldinho! 2-2, equilibrio assoluto! Ci prova il Torino, Ibrahimović allarga per Juan Quadrado. Ballone dentro per Ibrahimović, extraposso Ronaldo! Attenzione, qui a lancio lungo per Ronaldo! Va a saltare l'uomo di Balla, dentro l'area la sola, poi la palla a rimorco per Mkhitaryan! Game, set e match per Obrun 2002, ma un grandissimo applauso anche a Figurinho, che fino all'ultimo è stato un degnissimo avversario per il cammino verso la finale, che invece si dice di Granata! Complimenti se hai in finale! Grazie mille! Allora io voglio chiederti, io ti vedo super emozionato, qual è stato il momento dove hai avuto più difficoltà e pensavi non ce la faccio? In realtà sul suo 2-2, quando siamo andati ai supplementari, pensavo che mentalmente era avanti diciamo, quindi poi comunque Figurinho ha esperienza, quindi pensavo di potermela vedere nera e invece per fortuna ci sono riuscito. Ci sei riuscito, sei arrivato qui. Allora io ti invito a raggiungere gli analyst che avranno tante domande per te, complimenti ancora! Che hai combinato? Sei in finale? Un'altra volta i supplementari, un'altra volta fino alla fine, per fortuna. Emozioni a caldo? Ragazzi è stata durissima, veramente, Figurinho veramente ha fatto una partita assurda, col 3-5-2 un'altra volta ci siamo riusciti e dai è andata bene. Esatto, il 3-5-2 hai deciso di puntare su questo modulo che abbiamo visto che sta andando tantissimo in queste ultime settimane di gioco. Quanto è stato importante riuscire ad adattarsi anche a questo stile di gioco che comunque penso che tu non l'avessi mai usato prima delle ultime settimane di gioco? Sì, l'adattamento è tutto in questo gioco, soprattutto perché poi ti devi adattare appunto al gameplay, devi adattare allo stile di gioco del tuo avversario. Infatti già avevo pronto altri 2-3 moduli che per fortuna ho visto che non sono serviti più di tanto perché col 3-5-2 ho giocato bene. Soprattutto difensivamente che magari il 3-5-2 dietro è un po' più pericoloso, lui ha fatto dei controvedi veramente mirati. Per fortuna ho difeso veramente bene e l'ho portato a casa. È stato più che altro la difesa, più che l'attacco. E adesso scopriremo il vincitore. E il vincitore è Crazy del Asimilan Clash. Prego, complimenti. Grazie. Grazie tuo. Grazie. Come ti senti? Ma, di rispetto a ieri un pochino meglio, però comunque sono molto triste. Cioè è un premio di consolazione più che altro. Chiaramente l'obiettivo era il bersaglio grosso. Forse ieri la peggior partita in questo torneo. Assolutamente sì, non sono riuscito ad adattarmi al gameplay che ho avuto in quelle due partite e ho provato a cambiare un sacco di moduli, informazioni, tattiche, eppure non riuscivo a giocare. Dovevo andare così. Adesso è tempo della finale per il terzo e quarto posto. Allora, chiamiamo subito per la Salernitana 1919 eSport Montaxer. Andrea Montanini dopo la semifinale persa. Adesso deve ricercare quello che è l'accesso per i playoff. Passa tutto da questa sfida, passa tutto da questo match. Allora facciamo adesso rientrare l'avversario del sassuolo eSport, Figurigno. Simone figura il classe 1994 dopo averlo visto qualche istante fa lasciarsi sfuggire la finalissima. Anche per lui la motto d'orgoglio. Adesso è il momento di riprendersi. Questa è l'ultima partita per questi due protagonisti. Allora i player sono posizionati, sono pronti. Alvia, la sfida. Terzo e quarto posto. Teo, cercare Gullit. Dentro per Ronaldinho. Il reverse elattico. Cercare Ronaldo! Adesso Di Bala. Dentro per Ronaldinho. La finta poi Ronaldinho. Dentro per Ronaldo! Trentesimo del primo tempo di questo ritorno. Ibrahimović. Dentro l'area di rigore. A cercare il pallone dentro. La ribaltata Montaxer. Tonnali. Vediamo se vada solo. Tonnali steso. Calcio di rigore. Calcio di rigore. 84 sul cronometro. È un pallone pesantissimo. Sul destro di Ronaldo. Va Ronaldo! Finisce qua. È la Salernitana che chiude alla terza posizione questa E-seria team. Questo terzo posto era troppo importante. Mi ne è spiegato perdere in semifinale perché comunque il mio obiettivo era vincere questa E-seria. Però arrivati a questo punto comunque raggiungere la top 3 era troppo importante per i play-off e per tutto. Quindi sono contentissimo veramente. Partita molto difficile contro Figurigno che è un play-off veramente forte. Quindi contento. Complimenti per questo comunque terzo posto. Qua mi stava cadendo tutto. Io partirei dalla fine con la consegna di questo che è l'accesso diretto ai play-off. Obiettivo raggiunto? Obiettivo raggiunto sì. I play-off sono l'evento forse più importante dopo i mondiali che però i play-off servono per qualificarsi a punti mondiali. Quindi erano troppo importanti. Poi comunque dopo una sconfitta è sempre difficile giocare al top. Infatti l'annata ho giocato a un livello basso devo dire. Poi per fortuna al ritorno sono stato al mio livello, al mio solito livello e ho giocato molto bene. Ci siamo. Sento già un sacco di adrenalina. È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. L'ultima sfida, la finalissima. In queste due partite si deciderà chi alzerà la coppa qui alle mie spalle diventando quindi campione della E-Serie A Team 2022, il campionato ufficiale e-sport della Lega Serie A. Non perdiamo altro tempo, facciamoli entrare. Allora per il Venezia FC Gaming, Karim is back! Si alza il sipario e l'arena della E-Serie A Team 2022 si trasforma nel red carpet di Venezia per Karim is back! Il ragazzo terribile a tinte arancio-nero-verdi che vuole prendersi lo scettro di campione d'Italia! The show must go on! Adesso andiamo subito dall'avversario per il Torino FC Sport Team, Obrun 2002. Mettere in pausa il tempo e le emozioni della semifinale perché il traguardo è ad un passo. Obrun vuole regalare l'ultima gioia al popolo Granata. Al suo segnale, scatenate l'inferno! Sono arrivati, vi ricordo che Karim aveva detto tutti ma non Obrun e invece era proprio destino. Vediamo il player lock per andare al centro, Ibrahimovic! Perisic riceve, la mette in mezzo, Gullit! Sporcato da Paolo Maldini! Gullit, siamo sulla fascia sinistra, bello il taglio, Ronaldinho! A full ballato da parte di Dinho! Ancora il brasiliano, fa ballare la samba alla difesa! Poi dentro per Ronaldo, era uscito Mignan! Ronaldo Mignan con i piedi! Alza la Sara Cinesca! Ma il recupero ormai è andato, si continua a giocare. Brian Diaz dentro verso il secondo palo. E si chiude probabilmente qui. La gara d'andata è a favore dei Leoni alati del Venezia. 1-0, firmato Ronaldinho. R9 se la prende e va la Zlatan Ibrahimovic. Ibra per spaccare la porta! E invece manda alle stelle, complice anche la deviazione in angolo. Ronaldinho ce l'ha sul mancino. Dentro, Coulibaly extra, ma perisic! Il drago croato con il morso al minuto numero 15! Tutto da rifare per Karimisbeck. Ibrahimovi sul mancino! Il time it è giusto, col sinistro però fa il solletico a Mignan. R9 si gira! Ivan Peris ha cattivazione perché c'è Ibrahimovi sul mancino! R9 ce l'ha sul mancino ma non calcia, poi di bala! Si mola Maldini, ma non può far nulla sulla conclusione di Digno! Ancora Digno come se è chiuso il Venezia, ma magicamente... Nesce fuori Obrun! Il coniglio del cilindro! Gullit tra le linee Digno, extra passa Ibrahimovi! Che parada ha fatto Mignan! Prendiamo un defibrillatore, chiamate l'ambulanza perché sarà uno spettacolo! La E-seria Team 2022 si deciderà ai calci di rigore! Di bala col mancino Mignan! Chi dice di no? Primo errore da parte di Obrun che è incrociato. Ora R9 contro Mignan. Ronaldo a spiazzare il portiere! 1-0 Venezia. Il fenomeno! Non sbaglia da una parte e non sbaglia dall'altra. Importante però questo di Gullit. Gullit! Ancora una volta a spiazzare Mignan. Che sì! Segna grande freddezza. A parte di Obrun. Due pari. Ibrahimović! Non si sposta Mignan! E il Venezia che non ha ancora sbagliato. Ruth Gullit col destro. E ne segna un altro. Questo è importantissimo. Ma Mkhitary ha parato da Mignan! Parte Ibrahimović! Segno Zlatan Ibrahimović! Per il pareggio e Mignan per la vittoria. Tonali Mignan! Le mani di Mike Mignan sul trofeo! Il Toro che mata il Torero! Si tinge di granata la notte milanese! E Obrun 2002 e il suo Torino a portarsi a casa! Il trofeo! Le Serie A Team 2022! Per l'evento più bello! In questo 2022 l'evento italiano dell'anno lo vince! Obrun 2002! Tra gli applausi del pubblico! E ora il premio è anche stare vicino a Ludovic Appagano! Grazie ragazzi! Mamma mia che finalissima! Non ha deluso le nostre aspettative! Prima di passare alla premiazione. È un grande onore per me chiamare qui sul palco con l'amministratore delegato di Serie A Luigi Dessiervo! Prego! E lo sponsorship manager di Team Enrico Novari! Allora noi siamo per il secondo anno consecutivo del sponsor di questa manifestazione! Per noi è un grande onore a dimostrazione dell'impegno che Team ha nel mondo del calcio! Vediamo gli sport come un settore in grande fermento anche grazie alla nostra rete e alle connessioni ultra broadband di Team! Sicuramente è un ambito importante all'interno del quale restare per mantenere il contatto con le nuove generazioni! Quindi grazie a tutti! Grazie! Allora prima di consegnare il trofeo ovviamente chiamo sul palco tutti i caster, tutti gli analyst! Ragazzi forza venite anche voi qui! questo è il momento decisivo ed ora è arrivato il momento di consegnare eccolo qui il trofeo il vincitore della E-Serie A Team 2022 Open 2002! Volevo ringraziare tutti perché questo è un evento che sta crescendo di anno in anno diciamo proprio in questo studio abbiamo visto la fase dell'anno scorso è cresciuta faccio i complimenti a tutte le squadre, a tutti i ragazzi siamo veramente contenti di riuscire a ringraziare la Team, la Electronic Arts, chiaramente PlayStation ma in realtà insomma quello che mi piace raccontarvi è che siete ormai entrati a far parte della grande famiglia della Serie A fate a tutti gli effetti parte di un grande gruppo e niente, in bocca al lupo e buon lavoro! A presto! Grazie mille! E quindi si conclude qui questa avventura bellissima ovviamente ci tenevo a ringraziare tutti i castra tutti gli analyst, tutte le persone presenti in studio che hanno reso possibile questa avventura ovviamente per quest'anno è tutto l'appuntamento è all'anno prossimo grazie mille a voi per averci seguito all'anno prossimo! grazie mille a voi! grazie mille a voi! Grazie.